Calcio di rigore, scuote la testa Vicario. Copmeiners contro Vicario. Parte Copmeiners, la respinge Vicario, si resta sull'1-0, il decimo rigore parato in carriera da Guglielmo Vicario. Copmeiners sbaglia il primo rigore in questo campionato dopo i due segnati al Torino. E ancora 1-0 per l'Atalanta sull'Empoli. Sprecata l'occasione del raddoppio. L'ha calciato male Copmeiners. Vicario l'ha respinta con la gamba. La tira centrale, Vicario aveva battezzato un lato, ma tiene la gamba distesa e riesce a salvare. Empoli ancora in partita. Grazie. 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 Grazie a tutti.